Mary J.A.F.M.S Ciao cuccioli ben ritrovati allora ragazzi, innanzitutto tutto bene? spero di sì come vi ho suoni della stoffa o vuoi? come vi ho annunciato nel video precedente precedente avrei fatto due video slow asml asml let appunto in due parti come dicevo prima per per farmi dormire subito 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 voglio portarvi oggi quattro trigger come l'altra volta e voglio partire da questa lampada la la lampada luna che bel colore che ha ragazzi questa è una lampada a pele l'aspetto sembrerebbe tipico natalizio perché ci sta qui attaccata una una palla natalizia però questa per me ci sta bene tutto l'anno quindi anche se può ricordare il natale secondo me questa va bene tutto l'anno l'ho portata non solo per il suo aspetto estetico che è pazzesco ma soprattutto per il tricare che si può solare questo questo il è il 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 far vedere quasi al buio l'effetto che dà io la trovo a Calivissi a Calivissi il cicolio ragazzi che ne viene fuori spettacolare la base la base è in metallo la base è la base la base è la base è proprio spettacolare la base è la base 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 purtroppo ho avvicinato parecchio chiacchierone ragazzi ho avvicinato che disturba e niente voglio andare a vivere in campo ma adesso passiamo al secondo oggetto acqua profumata di Wicon che adoro l'acqua che è tipo scorca da una ricetta l'acqua fresca 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 l'acqua 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 fresca e l'acqua fresca ma cosa avranno mai da dire Sì Ok, 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 ok. farebbe pazzesco un video di un'ora solo come trigger l'alcol adoro super super libero un po' di più ... no un po' di più Adesso il terzo trigger, anche un trigger rosa, la pochette. Glitter 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.